54 appuntamenti, 3 serate d'eccezione, 6 titoli d'opera, Anabuco e Aida di Verdi, Tosca di Puccini, Don Giovanni di Mozart e ancora il barbiere di Siviglia di Rossini e Romeo e Juliet di Gounod. Sono questi i numeri e i nomi del prossimo Festival Lirico all'Arena di Verona, una stagione fatta di grandi cantanti, di registi di fama mondiale e di celebri direttori d'orchestra. Anche quest'anno sarà uno spettacolo, nello spettacolo grazie all'organizzazione di una realtà culturale importante, la Fondazione Arena di Verona. Sarà una stagione all'insegna dei grandi titoli areniani che sono stati portati in scena in questi ultimi 15-20 anni, per cui Nabucco, Aida, Tosca, Don Giovanni, il barbiere di Siviglia e Romeo e Juliet. A queste sei produzioni d'opera si affiancano tre serate cosiddette speciali, se vogliamo tre gala, che sono Roberto Bollenfrenzi il 22 di luglio, un Carmen Gala Concert il 24 di luglio e Carmina Burana il giorno 25 agosto. In più una serata al Teatro Romano di Balletto, con le coreografie di Renato Zanella, gala di mezza estate, dove verrà rappresentato la Sagra della Primavera e l'Uccello di Fuoco di Stravinischi. Per cui una grande stagione all'insegna di quattro registi che hanno portato la loro firma e che sono stati in questi ultimi anni, diciamo negli ultimi 30 anni, assolutamente soggetti e protagonisti della scena areniana, come il maestro De Bosio, il maestro Zeffirelli, il maestro De Ana e da ultimo con il suo Rome Giuliette, Francesco Micheli. In cartellone, come sempre, torna l'Aida di Verdi nell'imponente allestimento di Franco Zeffirelli in scena a partire dal 20 giugno, torna anche Tosca proposta nella scenografico allestimento di Ugo De Ana a partire dal 26 giugno e ancora il Don Giovanni il 4 luglio, il barbiere di Siviglia il primo agosto, l'8 agosto per la quinta stagione consecutiva torna il Romeo e Juliet nella messa in scena un po' medievale, un po' rock di Francesco Micheli. Ad inaugurare la stagione il Nabucco, secondo la regia ideata nel 1991 da Gianfranco De Bosio e diretta dal maestro Riccardo Frizza. Come Nabucco è un'opera giovanile, un'opera, un primo verde, quindi la mia intenzione è quella di fare un verde quarantottino, un verde che è giovane, quindi energetico, un verde brillante e nonostante ovviamente gli spazi dell'arena, comunque ci proviamo. Cosa vuol dire una stagione areniana per lei? Beh, diciamo, vuol dire anche un ritorno di ricordi, perché la mia prima sovrintendenza è del 69, quindi sono passati oramai 45 anni di arena. Il Nabucco è del 91, l'Aida che rappresenteremo l'anno prossimo è dell'82, quindi... Una bella cavalcata nella storia. Sì, sì, una cavalcata nella storia dell'arena e anche negli anni. Grazie. Grazie. Grazie.